Forse pochi sanno che nel cuore di Roma, a due passi da Viale Trastevere, c'è un tesoro di spiritualità francescana. È la chiesa di San Francesco Arriba, il luogo in cui il poverello d'Assisi soggiornava in occasione delle sue visite al Papa. Qui è custodita la cella che l'ospitava, un ambiente che ha attraversato i secoli ed ora necessita di essere restaurato. Dopo otto secoli queste pietre non hanno più lo splendore di un tempo. Vogliamo riportare questo luogo allo splendore originario, dove poter metterci in contatto ancora una volta con la spiritualità di Francesco. Tanti gli interventi necessari, dalla pulitura delle pareti al consolidamento degli intonaci, dal rifacimento dell'impianto elettrico al restauro del soffitto in legno cassettonato. Chiunque può partecipare versando un contributo attraverso internet. Una scelta che nasce dal desiderio dei frati di condividere questo progetto con il maggior numero di persone in tutto il mondo e dalla volontà di rinunciare ai fondi statali che, in questo momento di crisi economica, vanno destinati e utilizzati prioritariamente per progetti pubblici di carattere sociale. Queste pietre che ci parlano ancora oggi della presenza e del messaggio di Francesco hanno bisogno di essere restaurate, di essere recuperate. Aiutateci in questo nostro progetto.